Le battistrada Lentigione e Fidentina si annullano a vicenda nello scontro diretto finito 2-2 e il Fiorenzuola ne approfitta, passeggiando in casa della derelitta arcetana e accorciando le distanze dalla vetta. I rossoneri adesso sono secondi da soli nel campionato di eccellenza, a soli tre punti proprio da Lentigione che comanda quota 20. Tutto facile per i ragazzi di Mister Mantelli che passano con Pizzelli, si distragono e vengono raggiunti sul pari, ma poi si scatenano con Silvestri, Franchi e Lucci. E domenica prossima c'è il derby piacentino con il Royal Fiore, che ieri ha centrato la prima vittoria stagionale scacciando la crisi che aveva portato all'esonero di Mister Stefano Rossini. Il tandem Rizzo-Montanari, ormai una costante per il Fiore, aveva chiesto una prova di carattere e i ragazzi hanno risposto alla grande. Primo tempo inguardabile, chiuso sotto 2-0 nella ripresa strepitosa rimonta firmata dalla doppietta di Zamboni e dal gol vittoria al novantesimo di Cambielli. I punti ora sono solo 4, ma la strada sembra finalmente quella giusta. Domenica di festa anche in promozione per le squadre piacentine o per meglio dire per quelle di Castel San Giovanni. La Castellana schianta per 4-1 la Valtarese e approfitta della caduta della capolista Bibiano per portarsi a solo i tre punti dal primo posto, raggiunto a quota 18 anche dal Carignano. Tripletta di Zamboni e sigillo finale di Tedeschi per i ragazzi di Viciguerra. Bene anche il Fontanaudax a Medesano, la doppietta di Dalla Giovanna rende inutile il pareggio ospite, la squadra di Stefanelli veleggia tranquilla metà classifica. In seconda categoria finisce 2-2 il big match tra Nibiano e Sarmattese, deciso dal botte risposta tra i bomber Galvani e Baldanti, autori di una doppietta testa. Tutti i risultati di prima, seconda e terza categoria sul sito www.liberta.it e stasera alle 21 su Tele Libertà con la trasmissione Goal Time di Daniele Losi. Grazie a tutti.